Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via, che mi sento di morir Nei giorni di un'epidemia che si è accanita contro i nostri vecchi, la generazione degli italiani che hanno vissuto la guerra più che mai attuale torna l'anelito di liberazione, lo spirito di resistenza Anche per questo sentiamo il bisogno di ascoltarli Guardate i loro volti, non sono lapidi, monumenti ai martiri, medaglieri che pure ci aiutano a rendere l'omaggio dovuto ai fondatori della nostra democrazia e della sua costituzione antifascista Sono più di 400 anziani che siamo andati ad incontrare negli alloggi popolari, nelle case di riposo più di rado in appartamenti borghesi, insieme all'AMPI, associazione nazionale partigiani d'Italia Sì, sono proprio loro, le partigiane e i partigiani d'Italia Giovanissimi si ritrovarono nel mezzo di una guerra terribile che li chiamava a compiere la scelta più difficile Ribellarsi all'occupazione straniera, al lavoro forzato, alle persecuzioni razziali Ancora oggi testimoni scomodi, talvolta perfino insultati ed erisi da chi sostiene che in fondo Mussolini non era poi così male e che il fascismo apparterebbe solo al passato Una presenza che disturba la loro, ma proprio per questo una memoria preziosa che non a caso qualcuno torna a sfregiare con le svastiche Ci lanciano un avvertimento e raccontandoci la loro scelta forse ci danno anche un esempio da seguire Io mi chiamo Tosca Giordani Mi chiamo Bugni Ermene Gildo Carlo Orlandini Sono nata a Pedersano il 27 del 7 1922 Sono nato all'Aquila il 2 novembre del 1927 Sono nato a Trento nel 1927 Il nome di battaglia non ce l'ho, io sono sempre stata Tosca Il mio nome di battaglia da partigiano era Arno Il nome di battaglia era Biggo Tosca Giordani, operaia del cotonificio Pirelli di Rovereto è stata staffetta partigiana per la brigata Pasubiana che operava in Trentino sui monti della Valla Garina Quando trasportava fucili e bombe a mano nascosti sulla schiena sotto al cappotto sgonfiava una gomma della bicicletta e traversava a piedi il posto di blocco sul fiume Adige Ma la sua scelta antifascista risale a un episodio di molti anni prima quando era ancora una bambina La maestra mi ha strappato il quaderno e me l'ha buttato in faccia Perché? Perché ho fatto il tema su Mussolini Quanti anni aveva? 12 anni Che cosa raccontava? Allora, il tema su Mussolini raccontava che il nonno aveva il biroch, diciamo, il biroch, allora lo chiamavano Il calesse Il calesse Aveva questo biroch Ha conosciuto Mussolini durante un comizio in piazza di nomi Quando era ancora socialista Quando era ancora socialista, prima dell'ottocento, dell'ottocento e novanta erotti, diciamo, no? Ecco, l'ha conosciuto allora E pioveva E Mussolini, le ha detto, era verso mezzogiorno Mamma mia, piove, c'è il temporale, come faccio ad andare a stazione di Roveretta? E il nonno gli ha detto, lo porto io in stazione col mio calesse Strada facendo, Mussolini, le dice Signor Giuseppe, ha forse lei conoscenza che qualcuno qua a Roveretto vende Ha un negozio di capelli Sì, lì c'è Allora l'ha portato in via San Marco Davanti a questo negozio Mussolini è entrato, misura uno, misura l'altro, misura quell'altro Sì che è uscito E il nonno le fa, ma non l'ha comprato il capello Ci vuole troppo soldi, ma non ne ho Ha forse qualche soldo da imprestarmi Sì, vedrà anche la prossima volta che ci incontriamo Le porto io, quello che le devo Poi gli ha anche prestato delle scarpe Allora, dopo due mesi, nonno ha ricevuto un bigliettino E gli ha detto, signor Giuseppe, arrivo il taggiorno, puoi venire a prendermi in stazione? Sì Quando è arrivato vicino al calesse, ma Mussolini, ma dove va? Con quest'acqua ha tutte le scarpe rotte Perché quando alzava il piede, la scarpa faceva così La scarpa di Mussolini? La sua ola si staccava dalla tomaia, sembrava una bocca E il nonno? E il nonno gliel'ha detto questo Eh, lo so che ho le scarpe rotte lì C'è un negozio qua, lì, da comprare un paio di scarpe Sì, vai dietro i soldi? No, le domando se me le impresto anche questa volta Allora, senti lì, vieni a casa mia Che scarpe vecchie ne ho? Ma sono buone lì Se ce n'è un paio che ti va bene, te li regalo Quindi Mussolini ha avuto il cappello e le scarpe da suo nonno Da nonno Quei soldi non li ha mai più visti il nonno? Sono che ti aspetto dalla Mussolini, se la mi manda quegli interessi E lei ha scritto tutto questo nel tema? Tutto questo E la maestra che cosa le dice? Allora, prende il quaderno della cattedra e lui lo apre Chi ti ha detto di scrivere queste cose? Nessune, le ho scritte io Come? Sì, perché queste sono cose vere Raccontate da mio nonno E la maestra? Queste cose non si devono Ricordati che guai a te se parli ancora di queste cose Anche con gli amici fuori casa Ha preso il quaderno, me l'ha strappato in 400 E me l'ha tirato in faccia Davanti a tutti? Davanti a tutta la classe E diventata una ribelle per quel quaderno strappato? Il quaderno strappato E ho detto, basta alla maestra Io non frequenterò mai più il sabato fascista Io ho preso la divisa Il giorno dopo L'ho portata in classe E le ho detto alla maestra Questa se la tenga per lei E non sono più partecipata Nove anni dopo diventava staffetta partigiana La sua attività come si svolgeva? Allora, io avevo l'ordine da Giovanni Rosaro di andare a Roveretto a prendere i fucili La signora li aveva già preparati Me li metteva dentro sulla schiena come mettere un zaino E sopra mettevo il capotto Perché allora usavano i capotti a campana E lei andava a piedi? Con la bicicletta andavo a lavorare Ma quando uscirevo che avevo il fucile Non potevo usare la bicicletta Ma non la portavo e andavo fino a Pedersano Portava anche messaggi? No, messaggi no Qualche bomba nella borsa Giovanni quando mi vedeva Mi davo la borsa già carica di merce da mangiare E mi diceva Stai attento a non aver paura Ma sotto c'è qualcosa che scotta Possiamo dire che senza queste giovani donne Che facevano le stafette Non ci sarebbe stata la resistenza? No E per di più Sentire a casa mio padre che aveva un gruppo a sé Di persone antifasciste Che continuavano a parlare Di tutti gli ebrei che portaviglia di tutte queste scuole E una volta che non l'ho neanche mai raccontata Perché avevo paura anche di raccontarlo Che mi sono messa a piangere Che mia sorella di notte piangeva E mia sorella mi fa Cosa continui a piangere per quella roba lì? E io sento il papà sa che la dì Che ne doi taccarsi su via per le albere Che io ho sentito Impeccati agli alberi Impeccati agli alberi I banditi come li chiamavano I ribelli I ribelli Ermene Gildo Bugni All'età di 16 anni Era già vice comandante della divisione Modena Brigata Garibaldi Che sotto la guida della medaglia d'oro Mario Ricci Armando Ha combattuto sull'Appennino modenese Liberando un vasto territorio Divenuto noto come La Repubblica di Montefiorino E ha partecipato Alla liberazione di Bologna La sua scelta antifascista Era predestinata Fin dalla più tenera età Il mio padre è morto assassinato Per un delitto d'opinione Cioè lui Aveva pronunciato in modo aperto La sua condanna all'aggressione All'abisinia All'Africa orientale È vero Aveva Preso da un impulso di rabbia Aveva Gridato Che Chi Era al comando dell'Italia In quel momento Avrebbe portato la nazione al disastro Per cui Mi vidi la casa invasa Da energumeni Da un mucchio di gente Che Metteva le mani addosso a mio padre Poi L'ho visto che lo portavano via Oltre che manganellarlo e picchiarlo Gli mesero un imbuto in bocca E poi gli versarono Dell'olio lubrificante bruciato Delle auto Dopo tre o quattro mesi Con grandi sofferenze Se n'è andato Perché Questa roba Gli aveva bruciato lo stomaco Aveva Lo stomaco pieno di piaghe Quindi La morte di suo padre Che tra l'altro Vi costringerà A trasferirvi Con la mamma A Bologna Segna in qualche modo Una scelta antifascista Sì Nella resistenza Entrai Il primo ottobre Del 43 E la svolsi a Bologna Però fui arrestato Due volte Dalle brigate nere Per cui Si decise Che io raggiungessi La montagna Perché Bologna Era diventata Troppo pericolosa Sì Andai in montagna In marzo 44 Nel 44 Un ragazzino Di 15 anni Che va In montagna A dormire fuori casa Viene preso sul serio Dai partigiani Non viene trattato Come una mascotte Nel maggio Del 44 Aprile Maggio Tre mesi Erano passati Io Fui Nominato A furor Di Di formazione Perché la formazione Era già Su una cinquantina Di uomini Fui proposto Dal comandante Come vice Comandante E fui accettato Ero con Con entusiasmo Da tutti I miei Compagni Lei Parla Del comandante Armando Che poi ha avuto La medaglia d'oro Sì Che cosa Le ha insegnato Come fare A sparare Come fare Per svincolarsi Come fare Per attaccare Cioè Tutte queste Tecniche Della guerriglia Armando veniva lì E ce le spiegava C'era chi Ascoltava Così Io invece Ascoltavo Con grande attenzione E così Ha vissuto anche La Repubblica Di Monte Fiorino Sì Un territorio Che era 1200 km Quadrati Noi ne facemmo Un territorio libero Facemmo saltare Tutti i ponti Che i mettevano Nel territorio E Per 40 giorni In quel territorio Non entrarono più Fascisti O tedeschi Dopo la liberazione Lei Ha bisogno Di lavorare E torna A fare L'operaio In fabbrica Però Da Ex partigiano Viene Licenziato Cosa succede? Succede Che io In fabbrica Trovo Le stesse Condizioni Che c'erano Prima Che il fascismo Non cadesse Che fabbrica era? Era una fabbrica Di frigoriferi Si lavorava Con dei gas Docivi Metile Anitride Solforosa Per cui C'era bisogno Spesso Di usare Maschere Antigas E noi In tre O quattro Operai Avevamo Una maschera Io cercai Di cominciare A parlare Con gli operai E dire Vedete Mangiamo Con tegamino In mano La roba fredda Seduti Su Un sasso Su Almeno Chiediamo Un tavolo Con delle panche Non delle seggio E delle panche Fintanto Poi che Una mattina Quando andai A lavorare Mi invitarono A andare Su in direzione E in direzione Trovai I miei Libretti E nelle note Di licenziamento La cosa grave È questa Che io venivo Identificato Come Un sovversivo Un bolshevico Pericoloso Per la democrazia Occidentale Per cui Per me Era per il cruzo Ogni posto di lavoro Io Dovetti Per forza Di cose Dopo aver fatto Cento mestieri L'imbianchino Il manuale Il cameriere E mi misi a fare L'ambulante Questo è il destino Del partigiano Arno Sì Carlo Orlandini All'età di 16 anni Lasso Verona Varcò La linea gotica E fu arruolato Nella SAS Special Air Service Come ufficiale Di collegamento Fra i partigiani E le forze regolari Dell'esercito inglese Per ben sei volte Attraversò Il fronte di guerra Per poi unirsi Alla brigata Pasubio Ha rifiutato Una medaglia d'argento Al valor militare Sostenendo Che aveva fatto Solo il suo dovere Ricorda ancora Il momento preciso In cui riconobbe Chi era il nemico Da combattere Era l'estate Del 1943 E mi trovavo A Bardolino Sul lago di Garda Ad un campeggio Organizzato Dalla GIL La gioventù italiana Dell'Ittoria Era un centinaio Di ragazzi E c'era stato Il 25 luglio E tutto era Crollato Il 25 luglio A cominciare Dalla fuga Del comandante E raggiunta Cioè la notizia Che era stato Deposto Da capo del governo Mussolini E il vostro comandante Fugge dal campeggio Certamente Subito La prima cosa Che ho visto Tanti comandanti Fare Era scappare E mettersi in salvo Tutti i ragazzi Tornano a casa Ci sono rimasti Una decina E lì Con tutto questo materiale E quindi Abbiamo cominciato A smontare Il campeggio Per cedere Il materiale All'esercito Da cui in realtà Proveniva Una mattina Arrivano Dei tedeschi E si guardano Attorno Un gruppetto Lì in macchina E poi ci chiedono Se potevano Sistemarsi lì E mi hanno detto Per bacco Accomodatevi Erano SS Della divisione Hermann Göring Appena entrata In Italia E quindi Abbiamo cominciato A vivere assieme Come è fisicamente Natural In circostanze Di questo genere Nasce una conversazione Con questi SS Non solo Una conversazione Ma facevamo Il bagno assieme Andavamo a pesca Ci avevano invitato A andare a pesca Con loro Una sera Che eravamo a cena Assieme Aiutati Da Bardolino Quindi Del vino Bardolino Quindi Atmosfera Di cordialità Di amicismo Cameratismo Diciamo Si parla di guerra Si parla di donne Poi si arriva A parlare Di religione Questo è Al terzo bicchier E quindi Chiedo a quello Che era il mio Interlocutore Gli dico Io sono cattolico Tu cosa sei? Niente Sono ateo Ma guarda Che cosa strana Non ho mai incontrato Un ateo In vita mia No Dice Ma noi tutti Lo siamo Come noi tutti Lo siamo? Che discorso è? Ed era venuto fuori Le affermazioni Della propaganda Di allora Soprattutto tedesca La superiorità Della razza Roba di questo genere E allora A un certo punto Chiede Ma da dove venite Esattamente Dice Veniamo da Varsavia Dove abbiamo appena Bruciato il ghetto Di Varsavia Come è bruciato Il ghetto di Varsavia? Si si Abbiamo attaccato fuoco E poi Quando Gli ebrei Si buttavano giù Dalla finestra Facevamo tirare Il bersaglio E lì Tiravamo giù Questa scena Del ghetto in fiamme Della gente Che si butta fuori Mi ha sconvolto E non sono riuscito A dormire Allora Era L'ora del caffè L'ho preso In disparte Lo stesso SS Lo stesso SS Che aveva fatto Il racconto E gli ho detto Ma senti Ieri sera Tu ci hai raccontato Questo e questo E dico È perché Avevamo bevuto Un po' No no È assolutamente Vero Freddo Gelido Così E quindi In quel momento Mi sono sentito Salire Dalle viscere Diciamo La ribellione Fisica Insomma Ma che cosa è Dove siamo Ma è un uomo Questo Una ribellione Totale Ecco Questo Nasce così La scelta Partigiana Partigiana È già dare una definizione La scelta Dell'individuo Aver individuato Il nemico Il vero nemico Chi è Lei mi ha detto Che alla parola Partigiano Ne preferisce un'altra Ribelle Ribelle Perché Perché denota Una volontà Di qualcosa Che esplode Qualcosa di forte Qualcosa di Profondamente sentito Quando lei Sceglie Di passare Le linee Di andare Quindi A vedere Come è dall'altra parte E a offrirsi Di collaborare Nella guerra Di liberazione Lei ha Soltanto 16 anni Sì Lo dice Ai suoi genitori O scappa No Scappo Mio padre è morto Che io avevo Sei anni Ha lasciato Una lettera A mia mamma È stato uno Dei grandi dolori Della mia vita E quindi Ogni sera Quando Marciavo Eccetera Mi ritiravo Per la notte Eccetera Pensavo A quello Che era il suo dolore E il mio Eccetera Ma è continuato Perché In quel momento Mi pareva più importante Fare qualche cosa Per Appunto Per combattere E dopo Quando è tornato Sua mamma Cosa le ha detto? Lo lascio La sua immaginazione Ciascuno Una storia Diversa Migliaia Di motivazioni Nel giorno Della medesima Scelta partigiana Difficile E rischiosa Abbiamo provato A chiedergli Se in seguito Abbiano avuto Ripensamenti No No Sono sempre stato Fierissimo Di quel poco Che ho fatto Perché mi fareva Doveroso Per chi ama La libertà Combattere Per questo Non è un regalo La libertà Io ho capito Subito Che era un fatto Storico Importante Che sarebbe stato Una grande cosa Subito No no Se ho qualche Rimostro È perché Non ho fatto Di più Certo che Ne valeva la pena Però A vedere Ciò che vedo Adesso Sono dispiaciuta Ma tanto Ma tanto Ma tanto A che è servito Io vorrei sapere questo A che è servito Ci risiamo